2-1 per l'Ossia Mare qui all'Aldo Brandini di Ossia Antica contro la Lupa Roma una vittoria importantissima che conferma l'Ossia Mare in vetta alla classifica con 29 punti siamo con Alessio Palazzini, autore della doppietta che ha deciso l'incontro Buonasera Alessio e complimenti Buonasera Riccardo Insomma, tre punti fondamentali che alla vigilia insomma, erano sulla carta una partita molto molto complicata contro i vice campioni nazionali della Lupa Roma e invece è arrivata una vittoria convincente e meritata Sì, questa qua secondo me è una partita come se fosse una finale è un'ottima partita, ci servirono i tre punti sono contento che l'abbiamo preso grazie alla mia doppietta ma siamo stati bravi proprio come gruppo, tutta la squadra Infatti abbiamo visto dal reparto difensivo concentratissimo e guidato alla grande da cappelli fino ad arrivare appunto a te che sei stato protagonista con la tua doppietta una partita grandissima da parte di tutti Sì, come ho detto, è come se fosse una finale sono partiti bene da dietro ma bene pure il centrocampo e bene in attacco 29 punti con questi tre di oggi su 36 totali un campionato che sta andando veramente alla grande Sì, sta andando veramente bene, secondo me grazie al gruppo e abbiamo un grande mister che ci incita parecchio Oggi l'abbiamo visto particolarmente teso il mister Sì, il mister oggi era teso, la sentiva la partita si vedeva tutta la settimana anche se non mi sono allenato con loro però l'ho visto, l'ho sentito e poi alla fine l'urlo liberatorio per questo 2 a 1 che lancia ancora di più l'ossiamare su un campo molto molto complicato Sì, sì, ora è tutta felicità che abbiamo preso questi tre punti da tanto che li aspettavamo e sto contento così Complimenti veramente per questa doppietta e sempre forza ossiamare Grazie, forza ossia